Musica Ben trovati telespettatori di TV6 e l'appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di martedì 7 marzo. Dall'osservazione della mappa del tempo medio per l'Italia possiamo notare che avremo condizioni di tempo instabile soprattutto al centro sud. Mentre il nord Italia godrà di tempo più stabile e soleggiato. Nel dettaglio sull'Abruzzo al mattino le condizioni meteorologiche risalteranno instabili e perturbate su tutta la regione. Inoltre dato l'abbassamento di temperatura le nevicate rifaranno la loro comparsa al di sopra dei millimetri di quota. La ventilazione risulterà intensa dai quadranti settentrionali e i mari saranno generalmente mossi o molto mossi. Nel corso del pomeriggio non assisteremo a grosse variazioni con il tempo che risulterà ancora perturbato su gran parte del territorio regionale e con nevicate anche abbondanti al di sopra dei millimetri di quota. In serata assisteremo ad un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche tuttavia deboli piogge saranno ancora possibili su tutto il territorio regionale e in particolar modo sul sud della regione e il vastese. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo aggiornamento. Inoltre dato l'abbassamento delle condizioni e al prossimo aggiornamento delle condizioni